E' tempo di fiera a Codogno. Ha aperto i battenti infatti la 232esima edizione della rassegna dell'agricoltura e dell'agroalimentare, in passato punto di riferimento per gli operatori non solo rodigiani. Nei padiglioni del quartiere espositivo di Viale Medaglie d'Oro per due giorni si fa spazio all'allevamento in particolare di bovini da latte e a quel variegato settore dell'alimentare che fa perno sui prodotti primari. Campioni di tradizioni è lo slogan scelto quest'anno per il principale evento espositivo della cittadina della bassa rodigiana che si avvia a concludere la serie di iniziative legate a Codogno 2023 comune europeo dello sport. Se oggi e domani si fa spazio al grande pubblico già nei giorni scorsi si sono svolte manifestazioni a carattere culturale, artistico e sportivo, parte integrante del programma della fiera. Si proseguirà fino a domenica 26 novembre tra rassegne di scooter, gare di tiro a segno, concerti sinfonici e mercati degli ambulanti. La conclusione è affidata ancora allo sport con il trofeo città di Codogno di Bigliardo organizzato dall'associazione sportiva Bigliardi San Biagio.